Salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e per le guide di Sode Linux sono qui a presentare come fare l'aggiornamento e l'installazione di AraWord, il nuovo programma che abbiamo implementato per la comunicazione aumentativa e per la facilitazione della comprensione. AraWord si trova nel settore istruzione ma è la vecchia versione, quella che noi abbiamo sviluppato in collaborazione con OpenBlasti, eccolo qui il sito, come dicevo l'associazione progetto Radis, partner di questo progetto insieme al centro territoriale di Biela, abbiamo sviluppato le nuove potenzialità di AraWord per la comunicazione e l'abbiamo presentata sabato 14 novembre 2015. Io ho avuto l'onore di poter collaborare e coordinare in parte questo lavoro e adesso siamo in grado di divulgarlo completamente. Il programma adesso ha delle nuove potenzialità rispetto a prima. Il programma ha la possibilità di cambiare le immagini, colore e spessore dei bordi, si può cambiare la posizione del testo, è una ricerca agevolata delle immagini, possiamo modificare la parola relativa all'immagine e cercare fra più immagini per lo stesso significato, corretta gestione della prostofo e finalmente la sintesi vocale, vale a dire noi possiamo con un clic sentire quello che abbiamo scritto per immagini e per testo. Ma vediamo come implementare AraWord nel nostro Sodei Linux. Allora, per poterlo fare dobbiamo scaricare il file esecutivo. Il file esecutivo si scarica dalla pagina download di AraWord. Devo dire che abbiamo voluto fortemente sviluppare questa implementazione sia per Linux, che per Windows, che per Mac. Forse Linux è il sistema più semplice di implementazione perché non importa se la macchina è una macchina 32 bit o 64. Invece per Windows, come vedete adesso clicco per Windows, bisogna scaricare la versione giusta, cioè quella riferita al proprio tipo di computer, insomma bisogna un po' conoscere il proprio computer per sapere qual è la versione che bisogna scaricare, se per la 32 o per la 64. È molto importante AraWord oggi perché grazie al fatto che AraWord usa immagini libere, noi abbiamo un programma che ha immagini uguali su varie piattaforme. Come dicevo, le immagini sono molto importanti e vengono da questo progetto Arasac finanziato dal Fondo Sociale Europeo e grazie al fatto di essere immagini liberamente scaricabili dalla rete, oggi sono diventate uno standard europeo per la comunicazione per immagini, quindi non immagini proprietarie, ma immagini che troviamo sui tablet, sugli smartphone, con delle applicazioni per la comunicazione aumentativa, quindi la comunicazione aumentativa grazie a queste immagini viene veicolata sia dai computer che su altri sistemi portabili. Quindi la forza delle immagini ha reso questo programma molto molto importante, per questa ragione noi abbiamo voluto implementarlo. Allora, una volta che clicco Linux, per poterlo installare lo scarico, scelgo il pacchetto debia, eccolo qui, lo scarico e lo salvo nella cartella scaricati, do l'ok a salva, se la rete vi aiuta, ecco salva, ok e una volta scaricato il pacchetto debia lo troverete, ecco che ha finito, sono 31 mega, bene, lo troverete nella cartella scaricati della cartella home, che sarebbe il corrispondente della cartella download per Windows, eccolo qui, scaricati, ara suite debia, bene, non dovete fare altro che doppio clic e a questo punto si apre la finestra di dialogo per l'installazione, vi chiederà l'autorizzazione con la password e se avete una rete decente, in 448 installate ara world, che si affiancherà alla vecchia versione. Quindi questi sono i passaggi, si scarica il deb, doppio clic, doppio clic sul deb e poi installa. ecco adesso posso cliccare installa, mi chiede la password, che è sempre a scuola sui computer di prova che utilizziamo e a questo punto si installa. Ci vuole un po', dipende dalla velocità del processore, ecco, l'installazione è terminata, finito, non c'è altro da fare, si chiudono le finestre di dialogo e andremo a trovare il nostro programma, bello come il sole, nella lista dei software per istruzione, eccolo qui, istruzione ara world. Bene, allora adesso facciamo partire il nuovo ara world, che però è un ara world nudo, nel senso che non ha i pitogrammi, è semplicemente il software. I pitogrammi sono circa 20.000 e per scaricarli ed implementare ara world bisogna fare un paio di manovre, adesso è un po' lento nel partire perché è la prima volta che l'abbiamo lanciato, quindi bisognerà andare ad allestire il programma con tutti i pitogrammi che ci servono. Vi consiglio di fare questa operazione con una macchina che se abbia un collegamento internet piuttosto veloce, altrimenti, eccolo qui, questo è ara world e come vedete non c'è nessun pitogramma, se io scrivo casa non si vede niente perché non c'è la casa. Vedrete che dopo che ho scaricato i pitogrammi la casa la vedo. Allora, per scaricare i pitogrammi, io come vedete ho una connessione via cavo ethernet veloce, si va a strumenti, gestione delle risorse, controllo aggiornamenti, clicco controllo aggiornamenti, il programma si collega alla database a disposizione pubblica rasac.org e piano piano comincia a tirarsi giù i 20.000 pitogrammi in bianco nero e a colori. Adesso io metto in paso la registrazione perché ci vuole troppo tempo, ma alla fine dell'operazione, quando sarà al 100%, ara world avrà la sua cartella pitogrammi piena da poter essere utilizzata nelle nostre scritture a corredo delle parole. Ovviamente per questo ci sarà un'altra video guida fatta probabilmente dai colleghi che la stanno usando, da punto di vista didattico e clinico, anche per la questione dell'uso logopedico. Scrivere per pitogrammi ci vuole un attimo di attenzione, non è la stessa cosa che copiare un testo come un testo scritto. Adesso metto in pausa perché i pitogrammi stanno per arrivare. Ecco, alla fine quando l'importazione è terminata correttamente, si clicca ok, si chiude il programma, tutte le finestre e non si fa altro che riaccenderlo in maniera che quando il programma parte possa caricare il database in maniera delle immagini, che altrimenti non sarebbe disponibile con il programma aperto, diciamo la vecchia maniera, insomma, per capirci. Ecco il programma è aperto e ovviamente cominciamo a già vedere il simbolo. Allora, adesso lo provo, vediamo, eccolo lì, casa di mamma è bella. Come si vede, adesso i simboli ci sono. Questa è la funzione di parola e questa per cambiare la parola è così via, ma questo sarà oggetto di un'altra videoguida. dico solo che se qualcuno volesse trasportare i pitogrammi senza la necessità di scaricarli dalla rete perché magari la rete non ce l'ha e lo vuole installare i pitogrammi in un altro computer. Per fare ciò può semplicemente dalla pagina di Sodelinos cliccare sito ufficiale ARAWORD ITA e va su questa pagina oppure clicca a openblasti.it e da lì si muove fino al download perché nel sito ARAWORD ITA ci sono i simboli italiani. Allora clicca su simboli italiani e scaricherà due file zip, quelli in bianco e nero e quelli a colori. Eccoli qua, download e download. Una volta scaricati i file zip e scompattati in una cartella, come dicevo, una volta scaricati in formato zip i simboli italiani in bianco e nero e scompattati in una cartella, magari sul desktop per facilità, semplicemente da ARAWORD andando in strumenti gestione risorse potrò importare il database. Quindi non controllo gli aggiornamenti come ho fatto prima ma in questo caso un ARAWORD senza immagini in un pc staccato da internet importo il database. clicco qui, devo selezionare semplicemente la cartella scrivania, eccoli qui, bianco e nero, apri e appena dico in porta li porta dentro. Non lo posso fare ovviamente perché io ce li ho già, ma chi non ha il connessione a internet ad alta velocità potrà in questo modo portare da un computer all'altro il database immagini bianco e nero e a colori. ecco, adesso chiudo questa schermata e per l'implementazione di ARAWORD direi che ho detto tutto per quel che riguarda Sodi Linux. Per l'utilizzo di ARAWORD verranno avanti delle video guide e mi auguro che ce le postino gli utilizzatori che in Italia lo utilizzano con le varie modalità. Quindi per le video guide di Sodi Linux vi ringrazio per l'attenzione Francesco Fusillo e buona sperimentazione di ARAWORD.